Buon giovedì, buon giovedì, buon giovedì ragazzi. Allora, andate sul post, ho fatto un post su Community, qua sul mio canale YouTube Svideogame ovviamente. Andate sul post perché c'è un sondaggio per la live che ci sarà oggi alle 6.50, stasera prima di cena. Andate a votare perché oggi ci sarà solo quella live perché purtroppo oggi c'è un impegno di lavoro, dopo pranzo, quindi ci sarà solo quella sera. Ciao!